Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Io penso che uno Stato come Israele, pur ferito e ha ragione di essere ferito e sta piangendo i suoi morti, non possa reagire con la stessa violenza con cui hanno agito i terroristi. Perché è molto diverso. Uno Stato, una democrazia come Israele, non può oggi fare quella distruzione di Gaza prendendo da sedio la popolazione di Gaza. Ma le parole sono importanti. Scusa, ma sta privando di acqua, luce, cibo, benzina. La popolazione di Gaza sono due milioni di persone prigioniere di una striscia che è più piccola di Roma, dove ci sono almeno un milione di bambini, di ragazzi sotto i 14 anni. Questo è uno Stato democratico, non lo deve fare, ma perché viola anche le stesse leggi internazionali. L'assedio alla popolazione civile è un crimine di guerra. Quindi la rabbia non può che generare altra rabbia. Quindi i nemici di Israele si aspettano questo perché ricompatterebbe tutto il mondo arabo. Allora, Davide Piccardo.